Il regno del kebab, piazzetta Perna 7-8, via Carducci, angolo via Piave, chiuso il martedì. Io purtroppo lavoro tutti i tre giorni qua a Natale, il 24, il 25 e il 26. Senza ricevere lo stipendio? Senza ricevere lo stipendio. Lo fai per amore della villa e della città? Sì, lo faccio per la gente, lo faccio per le bancarelle, lo faccio per loro. A Natale Marco pulirà i bagni della villa comunale, presta l'attenzione alle aiuole del giardino. Lo farà dice per amore della città e della villa perché dall'istituzione è stato completamente abbandonato. Marco Demetrio di Gennaro, infatti, esposo il caso a CES. Da 16 mesi non riceve lo stipendio. Invalido al 75%, Marco è costretto a vivere con la pensione della madre. Malata da tempo, ma non vuole, rivela commosso. Pensare sulle spalle dell'anziana donna che ha bisogno di cure medicinali. Marco, il guardiano della villa, ben voluto da tutti. Anche stamani gli abituati dei giardini comunali gli hanno fatto sentire il loro affetto. Da comune invece, nonostante si avvicini a Natale, a Marco è stato risposto che non ci sono soldi per lui. Da 16 mesi senza stipendio, ma il custode del cuore d'oro non si arrende. La mattina fonda i colpi di ramazza nei bagni. Anche a Natale e alla vigilia della festa, Marco sarà lì al suo posto. Ci avevano promesso sempre a fine ottobre, a fine novembre, a Natale. Noi siamo arrivati a Natale e ancora niente. Cioè, ci promettono, promettono, ma mi pare che ci stanno prendendo in giro. Questo è... Facciamo un appello, ovviamente, a chi di competenza, che magari può in questi giorni tendere una mano a Marco, anche perché se lo merita, visto che il lavoro è oggi. E tra l'altro Marco è ancora presente davanti ai bagni, perché nonostante non riceve lo stipendio da 16 mesi, tu garantisci pulizia nei bagni, nelle toalette, dai anche un'occhiata così, garantisce anche un minimo di sicurezza alla villa, che ancora è frequentata dai bambini, dai ragazzi. Eh sì, esatto, dai bambini, i giardini li tengo belli puliti, sistemati. Anzi, io vorrei dire pure un'altra cosa, alle mie colleghe che stanno al Teatro Gesualdo di Avellino, che sono le mie colleghe con la stessa ditta, Pantarei, e piglio che anche loro sono da 14 mesi senza stipendio, anche loro. E' un grande amico, voglio bene, però c'è un anno e mezzo, loro non pigliano il stipendio, perché il comune dice... Che non ha soldi. Non tiene soldi. Però le soldi, per ogni parte, i vicini urbani hanno cattato le macchine nuove, le divise nuove. Chi stu vuole, voglio darlo, non lo puoi fare. Perché non lo puoi fare? E' esatto, come fa? Da campano qua, per le spalle della mamma. La mamma, la mamma oggi sta, domani non c'è. Ha bisogno, quindi il comune dovrebbe fare il dovere proprio di pagare queste persone che fanno loro dovere, veramente, non gli altri che non fanno niente.